Un caro saluto da Diego Fusaro, torna a far parlare di sé l'immancabile e immarcescibile Guito Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington, se non di Hollywood. Cosa ha detto il Guito Zelensky? Più che detto ha fatto, ha nominato come proprio consigliere Shevchenko il calciatore e quindi ancora una volta il Guito Zelensky compie una mossa teatrale, cinematografica, coreografica potremmo dire. Non si smentisce mai, è un uomo di spettacolo o di avanspettacolo, l'abbiamo visto, si muove a proprio agio sui palchi, avrebbe voluto essere presente all'Ariston per il festival della canzone italiana di Sanremo, invece è stata letta semplicemente una sua epistola a tratti degna di quelle di Totò. abbiamo visto la sua presenza in molte altre rassegne Kermes e adesso compie un ulteriore gesto scenografico nella misura in cui, come già sostenuto ed evidenziato, nomina proprio consigliere un calciatore. Ecco, voi capite che l'epoca post-moderna è tragica senza riuscire a essere seria ai noi e il Guito Zelensky pare, da qualsiasi prospettiva lo sì, scruti del tutto interno a questo paradigma post-moderno. Il Guito Zelensky una volta di più rivela la propria natura di fantoccio televisivo cinematografico, di prodotto in vitro di Washington, come abbiamo detto. E in effetti questa è la sua funzione, la sua destinazione, quella che la lingua tedesca di Fichte e di Hegel chiamerebbe la sua bestimmung, la sua vocazione, essere un Guito manovrato da Washington nell'interesse di Washington, fingendo di difendere ovviamente l'interesse dell'Ucraina che invece viene sacrificata sull'altare dell'interesse di Washington.